benvenuto in questo virtual tour io sono angelo camilleri addis mister affitti brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto giuseppe di napoli ci troviamo a garbagnate milanese in un monolocale con la cucina separata l'appartamento è completamente arredato abbiamo l'ingresso su un vano open space con zone ben distribuite quindi partiamo dall'ingresso zona pranzo zona studio postazione tv divano letto armadiatura e libreria da questa stanza si ha accesso ad un grazioso balcone con la vista sul giardino condominiale cucina separata con tutti gli elettrodomestici e un piano d'appoggio bagno con lavatrice e doccia per tutti i dettagli su questo immobile visite il sito www.limbiate.soraffitti.it per la cultura dell'affitto visite il blog www.misteraffittibrianza.com solo affitti affittare con sicurezza